Sapevamo che oggi era difficile, molto difficile. Loro come i gruppieri hanno tanti ingambi, giocano insieme da tanto tempo. Noi, il senior, lo siamo io e il team al centro. Siamo una squadra giovane che per oggi in campo ha messo il cuore, la grinta e gli attributi. Ci portiamo a casa la consapevolezza di non essere inferiori a nessuno e che possiamo fare sempre di meglio. Nel prossimo anno ci riproveremo. Penso che siamo arrivati qui bene preparati fisicamente e taticamente. Abbiamo iniziato oggi la partita un po'... Penso che per la partita di ieri che abbiamo corso tanto, un po' stanchi di gambe, però dopo siamo ripresi e alla fine è stata una bella partita che abbiamo notato fino alla fine per venire la vittoria. Penso che oggi dobbiamo riposare abbastanza, riprenderci fisicamente e continuare a studiare quello che già abbiamo iniziato perché non li conosciamo dentro di campo, però fuori campo tra i streaming e tante altre roba, video e tutto, li conosciamo. Quindi sarà una partita difficile, dura, però secca. Quindi dobbiamo arrivare con tutto. Grazie. 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 Grazie.